allora buongiorno da soci la città sempre in movimento sempre viva notte e giorno alla sera naturalmente ci sono le luminarie città molto illuminata illuminatissima ecco qui c'è la passeggiata è anche un giorno normale non è neanche festivo come vedete tanta gente molti turisti non c'è freddo insomma qualcuno col capotto qualcuno ho visto anche qualcuno con la giacca vedete con la tuta una felpina con la maglietta il giubbottino aperto la maglietta bene e quindi temperatura intorno oggi che non è soleggiato intorno ai 13 14 gradi un po' nuvoloso ma è normale adesso in questo periodo un po un po di aumento di nuvolosità ma insomma ragazzi si sta bene ottimo clima aria pulita aria fresca siamo sempre in mezzo alla natura e vedete comunque ragazzi il movimento e tutta la gente sempre in festa bene e dopo questo speriamo che non mi blocchino il video poi per via della della musica e niente pacca pacca ragazzi